incontriamo franco giacomelli che su libri tv ormai vediamo spesso e ci parla di ostia e invece questa volta non ci parlerà di ostia quindi questo già di per sé è uno scoop. Salve a tutti, tutta questa manifestazione mi ricorda il 1987 quando abbiamo fatto quella campagna noi radicali, abbiamo fatto la campagna Rai TV non ti pago più, all'epoca abbiamo fatto una montagna di disdetti alla Rai e quindi sarebbe il caso opportuno, i tempi sono maturi di riprendere la battaglia perché veramente è una cosa vergognosa perché tra la TV privata, un servizio pubblico non c'è differenza, c'è la differenza dal punto di vista commerciale ma c'è la differenza dal punto di vista politico, il famoso carrozzone Rai che è occupato e spartito dai politici quindi ha doppio valore una battaglia, c'è l'aspetto politico e economico quindi spero che si rimetta in modo un'altra battaglia di questo tipo. Franco secondo te a occhio e croce il cavallo da Rai sul pontile ci starebbe oppure sulla rotonda? Beh è bella questa, sì, il bel cavallo, il famoso cavallo lo vedo proprio al pontile di Ossa sul giardino in mezzo al prato e lo chiameremo il cavallo marino. In mezzo ai due marchi, grazie a Franco Giacomelli.